Dove sei stato? Un tubo bloccato. Se l'è di no... È un piacere vederti. Di lui ci si può fidare. Alla tua. Alla salute. Salute. Ormai non esiste più un posto per noi. Mi spiace per quella gente. Gli ebrei sono esattamente come noi. Sentite, conosco le fogne meglio di mia moglie. Quanto volete? 500 slot al giorno. Giornata d'ora. Una settimana fa sua moglie non aveva soldi. Danno una ricompensa a chi denuncia un ebreo. Alcuni stanno facendo un mucchio di soldi. Dio punirà gli abiti. Ho trovato degli ebrei! Gli ebrei! Ho trovato degli ebrei! Tutto questo tempo hai nascosto degli ebrei. Mi hai preso in giro. Tu mi hai tradito! Sto rischiando la vita. E con me anche la mia famiglia. Non devi mollare mai. D'accordo? S.